www.mvd.com www.mvd.com Finanza di mare sequestra sistema di ormeggio a Galenzana ben 5.500 metri quadrati di ormeggi abusivi denunciata a imprenditrice sessantenne Animaletti nei piatti sospesa la somministrazione del primo all'asilo l'episodio a San Giuseppe Vecchio in corso le verifiche del caso Banca dell'Elba in Assemblea approvato il bilancio d'esercizio eletto anche il nuovo consiglio di amministrazione le novità della Cassa Mutua Soci tutto pronto per la 24esima edizione della Festa del Pulcino 25 squadre provenienti da tutta la Toscana si sfideranno nei campi dell'isola trevi dall'Elba Marco Landi si candida a Firenze con Eike Schmidt il 14 aprile 34esima edizione del premio Città di Portoferraio Marcella Merlini incontra gli abitanti del centro storico prima edizione del triatron olimpico a Marciana Marina Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Erba Press anche oggi molte notizie in particolare la cronaca apriamo infatti con un sequestro da parte della finanza di mare a Galenzana di un sistema di ormeggio nello specchio di mare antistante si tratta di 5.500 metri quadrati di ormeggi abusivi è stata denunciata una imprenditrice sessantenne i finanziari della sezione operativa navale di Portoferraio hanno sequestrato un sistema di ormeggio a Galenzana coordinati dalla procura della Repubblica hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Liborno che ha disposto la misura cautelare e reale nei confronti di un'imprenditrice sessantenne nella sua qualità di rappresentante legale di una società elbana che opera nel settore della cantieristica navale beneficiaria di una concessione demaniale marittima le indagini dei finanzieri di mare Erbani in collaborazione con il nucleo sommozzatori della stazione navale di Livorno hanno condotto ad accertare l'illegittima e arbitraria occupazione di circa 5.500 metri quadrati di mare antistanti la spiaggia di Galenzana nei pressi del porto di Marina di Campo e la conseguente segnalazione alla procura labronica per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale e in osservanza dei limiti alla proprietà privata da cui il sequestro preventivo di tutto il sistema di ormeggio composto da diverse centinaia di metri di catenari, cime e gavitelli e ora andiamo ad un evento piuttosto particolare che si è verificato all'asilo di San Giuseppe c'erano degli animaletti nei piatti e quindi i bambini che dovevano mangiare il primo non lo hanno potuto fare cioè il primo è saltato l'episodio si è verificato a San Giuseppe Vecchio e ora ci sono in corso tutte le verifiche del caso le altre portate comunque sono state tutte servite regolarmente Nella giornata di ieri nella scuola dell'infanzia di San Giuseppe Vecchio si è verificato un episodio in relazione al quale sono in corso verifiche del caso nel momento dello sporzionamento del primo come riferito da una delle insegnanti è stata notata in qualche piatto la presenza di alcuni animaletti la somministrazione del primo piatto è stata quindi immediatamente sospesa di conseguenza i bambini hanno saltato il primo essendo prevista l'uscita da scuola dalle 12.45 alle 13.30 anziché alle 16 a causa di uno sciopero degli insegnanti non è stato possibile procedere alla sostituzione della portata come stabilito dalla Commissione Mensa le altre portate sono state somministrate regolarmente una volta informata di quanto accaduto l'amministrazione comunale si è subito attivata ai bambini presenti a scuola non è stato addebitato il costo del pasto nelle altre scuole della città il servizio Mensa dove è presente è stato erogato regolarmente Assemblea della Banca dell'Elba che ha approvato il bilancio d'esercizio è stato eletto anche il nuovo consiglio di amministrazione le novità non finiscono qui perché ci sono anche alcune nuove notizie per quanto riguarda la cassa mutua soci si è tenuta nella sala congressi dell'hotel Airone di Porto Serraio l'assemblea dei soci della Banca dell'Elba nel corso della stessa la banca ha deliberato in seduta ordinaria e straordinaria un'assemblea partecipata da moltissimi soci per la soddisfazione dei dirigenti oggi i nostri soci hanno dimostrato proprio l'attaccamento alla nostra banca partecipando all'assemblea ma diciamo che questo attaccamento traspare molto di più dalle attività quotidiane i nostri soci è ormai da più di 25 anni che ci danno un'enorme fiducia anche per quanto concerne proprio le semplici operazioni di banca e noi cerchiamo sempre di non deludere le loro aspettative nella parte straordinaria sono stati rivisti alcuni articoli dello statuto sociale e in quell'ordinaria è stato approvato il bilancio ed è stato eletto un nuovo consiglio di amministrazione la banca si è trovata a dover deliberare sia la parte ordinaria che straordinaria dell'assemblea nella parte straordinaria sono stati rivisti alcuni articoli del nostro statuto sociale così come suggerito dalla nostra capogruppo e già autorizzati dalla banca centrale europea nella parte ordinaria invece come di prassi abbiamo approvato il bilancio di esercizio sono state riviste quelle che sono le politiche di remunerazione che questi sono due appuntamenti ormai fissi durante la nostra assemblea e in più sono stati fatti tutti gli adempimenti che riguardano l'elezione delle cariche sociali quindi far data ad oggi la banca avrà un nuovo consiglio di amministrazione un nuovo collegio sindacale e un nuovo collegio dei provviviri La direttrice ha anche voluto ringraziare i collaboratori dell'istituto Ringrazio anche l'enorme impegno che tutto il personale dipendente mette quotidianamente per poter accontentare le richieste dei nostri soci e dei nostri clienti A margine dell'assemblea il vice direttore della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo Gianni Parigi ha svelato una novità anche Banca dell'Elba partecipa al progetto CMN una cassa mutua riservata ai soci e ai dipendenti del credito cooperativo per prestazioni sanitarie all'integrazione o in sostituzione di quelle offerte dal servizio sanitario Banca dell'Elba ha deciso anch'essa di costituire, di promuovere e sostenere un'associazione mutualistica che ha come obiettivo quello di riconoscere delle provvidenze, delle erogazioni, dei contributi sia nel settore sanitario, sia nel settore di assistenza alla famiglia, culturale e del tempo libero a favore dei soci che appunto si associeranno a questa associazione questo è l'obiettivo, l'associazione opererà con strutture esercenti del territorio, dei locali con cui si convenzionerà e consentirà quindi ai propri soci di poter fruire di prestazioni presso queste strutture con naturalmente condizioni agevolate e avendo talvolta anche un contributo, un'ulteriore provvidenza da parte dell'associazione stessa Lo stesso Parigi ha espresso la soddisfazione dopo l'assemblea dei soci Assolutamente soddisfacente rilevare e poter constatare tutti gli anni che si può continuare a fare banca, piccola banca, banca locale, banca di comunità nonostante una normativa bancaria che naturalmente non differenzia fra grandi banche e piccole banche ma vedere che Banca dell'Elba continua con questi risultati in termini di fiducia a soddisfare le esigenze dei propri soci e clienti in una terra meravigliosa come l'Elba è comunque grande soddisfazione perché dimostra che le cooperative di credito hanno ancora un senso dopo 120 anni oltre la loro costituzione, continuano ad avere un ruolo e continuano ad avere una crescente fiducia da parte dei clienti e dei soci Tutto pronto per la 24esima edizione della Festa del Pulcino 25 squadre provenienti da tutta la Toscana si sfideranno nei campi in tutta l'Isola d'Elba, in vari comuni elbani domani sabato sera la festa qui nel campo sportivo di Portoferraio vediamo il servizio Sabato 11 e domenica 12 maggio ritorna la 24esima Festa del Pulcino la quarta intitolata Fabio Bresci, vicepresidente della Lega Nazionale di Lettanti scomparso nel 2017 La manifestazione organizzata dal Comitato Regionale della Toscana e della Lega Nazionale di Lettanti è dedicata alla categoria calcistica Pulcini piccoli calciatori tra i 9 e gli 11 anni Si svolgerà all'Isola d'Elba la Festa del Pulcino una festa del Pulcino che è stata organizzata dal Comitato Regionale Toscana dalla Lega Nazionale di Lettanti e quest'anno come sempre viene dedicata a Fabio Bresci che comunque è stato un vicepresidente della Lega Nazionale di Lettanti scomparso nel 2017 parteciperanno 25 squadre in tutte le province della Toscana tra cui la realtà dell'Elba parteciperanno i comuni di Portoferraio, Laudace poi ci sarà Portazzurro, La Campese, Rio Marina e Marciana Marina in tutto ci saranno quasi più di 2000 persone L'evento sarà dislocato in tutto il territorio elbano nei vari impianti sportivi di Marciana Marina, Marina di Campo, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio Marina saranno presenti al torneo 25 squadre provenienti da tutta la Toscana comprese le società Elbane è una festa che è concentrata soprattutto per la solidarietà tra i bimbi per partecipare comunque a questo gioco perché il calcio comunque è un gioco ed è molto importante farlo capire non solo ai bimbi ma anche ai genitori io volevo ringraziare soprattutto chi organizza questa cosa che è il presidente della Lega Nazionale di Lettanti che è Paolo Mengini e il vicepresidente Bruno Perniconi volevo ringraziare soprattutto i cervelli della nostra società e sono Patrizia e Alessandro che si dedicano tutti loro stessi per organizzare questi eventi Sabato sera alle 20.30 presso il campo sportivo Lupi di Portoferraio si svolgerà la cerimonia di apertura con uno spettacolo folkloristico senza paragoni il giorno successivo si disputeranno tutte le partite l'isola delba rappresenta il fiore all'occhiello per lo svolgimento di questa festa specialmente per il binomio sport-turismo infatti saranno presenti più di 2000 persone che soggiorneranno accompagnate dall'area primaverile che l'isola delba offre si reputa soddisfatti e orgoglioso anche il vice sindaco e assessore allo sport Luca Baldi ormai per questo territorio questa manifestazione è diventata un punto di riferimento ha agevolato e ha aiutato molto lo sviluppo del movimento calcistico sul territorio perché anche le società del continente hanno apprezzato questo territorio e quindi negli anni sono sempre venute più volentieri non solo alla manifestazione ma anche hanno partecipato a altri tornei sicuramente questa manifestazione ha anche una valenza promozionale di questo territorio perché appunto in questi due giorni ci sarà presenza numerosa di atleti e famiglie e quindi è un modo anche per far conoscere la nostra terra, la nostra isola al di là dello sport Ed ora le brevi dall'Elba Mi candido per la città di Firenze l'annuncio è di Marco Landi consigliere regionale della Lega che mostra sui social la firma di accettazione sul modulo di presentazione della lista che affiancherà il candidato a sindaco del centro-destra fiorentino l'ex direttore degli uffizi Eike Schmidt Ho deciso di correre al fianco di Eike Schmidt per la città in cui ho vissuto da studente scrive Landi per il futuro della città natale di mia figlia Martina Firenze ha bisogno di un cambiamento e io sono pronto a lavorare perché questo si realizzi Nuova edizione del premio Città di Portoferraio nato nel 1990 nella Media Pascoli poi acquisito dal comune della città medicina napoleonica che lo gestisce insieme alla locale scuola Media Pascoli diretta dalla preside Daniela Pieruccini e anche questa 34esima edizione sarà coordinata dalla professoressa Rita Rossi Martedì 14 aprile alle 17.30 nella scuola detta di Viale Elba ci sarà la cerimonia per assegnare riconoscimenti a pensionati esemplari e anche un premio speciale Elba i designati sono Mario Balatresi Antonio Chiarelli e Pasqualino Spina il premio speciale va a Raffaele Mennella Marcella Merlini candidata a sindaco con la lista Bene Comune incontra gli abitanti del centro storico centro storico di Portoferraio bello e malato quali cure il tema dell'incontro al Grigolo sabato 11 maggio dalle ore 15 in poi ci saranno la candidata a sindaco e i candidati consiglieri della lista Bene Comune domenica 19 maggio a Marciana Marina è pronto a debuttare il triatlon olimpico all'interno del circuito di gare dell'Iron Tour Italy che prevede 5 tappe in altrettante località Elbane su 5 giorni si tratta per Marciana Marina della prima edizione sulle distanze olimpiche di 1500 metri di nuoto 40 chilometri in bicicletta e 10 chilometri di corsa la frazione di nuoto si svolgerà nella baia del paese seguita da quella di ciclismo sulle strade panoramiche tra Marciana Marina e il vicino centro di Procchio per concludere con la codistica sul lungomare e le vie adiacenti del Borgo con le brevi come al solito si chiude il nostro telegiornale grazie per essere stati con noi a tutti un buon weekend grazie per la visione